Nuova riunione domani mattina della marineria di Sciacca nei locali della chiesa di San Pietro. L'iniziativa si inquadra nella mobilitazione scattata nelle settimane scorse per far fronte alla nuova emergenza normativa scaturita a seguito dell'ennesimo regolamento comunitario ritenuto vessatorio per la pesca artigianale in discussione in queste settimane a Bruxelles. La riunione di domani servirà per definire la partecipazione di una delegazione Saccense all'incontro in programma lunedì prossimo a Palermo con il ministro delle politiche agricole della pesca Teresa Bellanova promosso dal deputato regionale Carmelo Pullara. All'esponente del governo nazionale la marineria di Sciacca unitamente alle altre marinerie siciliane manifesterà le preoccupazioni del comparto legate alla proposta di regolamento comunitario di integrazione e modifica di un precedente regolamento che disciplina il sistema dei controlli sull'attività di pesca e che prevede tra le altre cose l'installazione di telecamere a bordo dei singoli motopesca per monitorare e controllare le catture di pesce, questo unitamente ad altri controlli sempre più stringenti per l'attività di pesca. Il provvedimento normativo come noto in questo momento è all'esame della Commissione Pesca Europea e potrebbe approdare al Parlamento Europeo ad ottobre per l'approvazione definitiva. Per contrastare tale provvedimento e mettere in campo tutte le azioni necessarie per impedirne l'approvazione domenica scorsa a Licata si è costituito il coordinamento di otto marinerie siciliane. Ne fanno parte Licata, Sciacca, Trapani, Porticello, Porto Empedocle, Scoglitti, Catania e Portopalo di Capopassero ed è un coordinamento che si è posto innanzitutto l'obiettivo di confrontarsi con le istituzioni regionali e nazionali. Lunedì dunque incontro con il Ministro Bellanova cui parteciperanno delegazioni di tutte le marinerie. La riunione di domani mattina a Sciacca servirà inoltre per stabilire anche quali forme di protesta attuare unitamente alle altre marinerie che fanno parte del coordinamento.